Popolo di YouTube, Miss O'Mastang, versione padovana. Allora, parto col fare i complimenti ai nostri avversari, ai nostri gemellati, per questa vittoria. Comunque sia, sono stati più cinici di noi, sono stati comunque belli solidi là dietro, quindi comunque onore a loro. Se vanno in Serie B comunque non provo nessun tipo di rancore, anzi ripeto, sono contento per loro. Se non ci dobbiamo andare noi, sono contento che vadano loro, però arrivando al mio padova sono deluso. Sono deluso da questa partita perché non puoi pronti via a prendere un gol da polli. Come abbiamo fatto sempre ultimamente con la Juventus in casa e rischi di perdere il playoff, perché poi rischi di prendere il gol subito. Con il Catanzaro, e lì ti va bene che rimonti. Sempre su palla inattiva oltretutto si segna, sta squadra segna solo su palla inattiva, anche questo è un problema da risolvere. E qua prendi gol, prendi gol però con una squadra diversa che è il Palermo, che forse tecnicamente non vale il Catanzaro. Però è una squadra che ha delle consapevolezze, ha una storia, è un gruppo molto unito e quindi tu contro queste squadre non puoi permetterti questi errori perché non recuperi. Perché il Catanzaro, sapete, è anche una squadra, sappiamo, che è disgraziata, non quanto noi magari, ma è una squadra disgraziata ultimamente per quanto riguarda la Serie B. La Juventus Under-23 chiaramente non è una squadra alla portata della Serie B, il Palermo sì ragazzi, il Palermo ha anche la storia dalla sua, oltre che la bella squadra. Quindi hai reso un gol da Polli, perché Curcio e Gasbarro hanno combinato una frittata assurda, la dietro, male, non mi sono piaciuti nessuno dei due comunque, prestazione brutta a parte di tutti e due. Gasbarro finché deve difendere, ok, poi quando deve impostare è un disastro totale, anche qui il tiro, ha tirato in curva, è una nuova curva assurda, un disastro dietro l'altro, guarda, non lasciamo stare. Curcio, anche lui per carità in fase di spinta non è neanche male, però tanto impreciso, è anche appena tornato. Io non me la prendo neanche con lui per la prestazione in generale, me la prendo per il gol preso da Polli, da Polli ragazzi, veramente da Polli. Poi bravo il loro giocatore a crederci, gli altri nostri difensori comunque non sono stati pronti, anche se ripeto, la frittata è stata combinata da chi ha perso la palla. Lì è, ragazzi, poi il Padova reagisce per quello, crea anche delle occasioni, meritava anche il pareggio per me il Padova. Cioè a livello di prestazione, se finiva in pari, non c'era niente da dire, era il risultato più giusto probabilmente, neanche anche, ma no, anzi a livello di occasioni era giusto il pari, guarda, vi dico la verità. Poi dopo, è vero, il Padova ha giocato di più del Palermo e tutto quanto, però un pareggio ce lo meritavamo, di questo sono certo. Il problema è che sprechiamo tanto, anche le occasioni che abbiamo le sprechiamo, o anche quella, mamma mia, quell'azione Luxul che c'è quel gol dubbio, diciamo, che poi non c'è la gol line technology. Grande occasione per noi, colpo di testa, il portiere loro che va a farfalle, che colpisce di testa troppo piano, gran sarvataggio di Marconi, che poi spedisce sulla traversa e dopo là si perde tempo. Ecco, apriamo una parentesi, che schifo che fa questa cosa che non ci sia la gol line technology. È una cosa che, cioè la gol line technology è entrata in vigore, se non sbaglio, nel 2014, fissa dal mondiale del 2014, se non sbaglio. Poi correggetemi nei commenti se sbaglio. Non è possibile che introduci il VAR nei playoff, a partire dalle semifinali, però lo introduci in Serie C, gran passo in avanti, ma è possibile che non hai introdotto la gol line technology? Ma siamo veramente a questi livelli? È ridicola questa cosa, ragazzi, è ridicola. Poi io non voglio dire gol o non gol, perché vorrei vedere le immagini più chiaramente. Mi posso vi dare del VAR, perché comunque il controllo c'è stato, ragazzi. Quindi per me è giusta questa decisione, poi riguarderò magari, poi magari sbaglio anche qui. Non mi voglio sbilanciare in questo caso, non voglio dire fesserie. Quindi, vabbè, gli va bene anche lì. Sulle palle inattive spesso siamo pericolosi, ma ci manca l'aspettata decisiva. Con Santini sfioriamo il gol. Nel secondo tempo ci proviamo da fuori. A un certo punto Oddo mette un 4-2-4. Entrano Jelenic, Ceravolo. Anche se poi Bifulco mi era piaciuto molto, ma Bifulco è un altro giocatore che è tornato dall'infortunio, quindi ci metterà un po' a recuperare. Lo stesso Ronaldo, nel secondo tempo è calato. Comunque, nel secondo tempo entrano Jelenic, Ceravolo, Sisse, poi c'è Chiricò sempre là sulla destra. E per carità, mettiamo dei palloni dentro, creiamo, ma non c'è mai la giocata decisiva. Altro problema, non c'è il centravanti. Tante volte abbiamo lanciato lungo per il povero Santini, che per carità ce la mette tutta. Questo ragazzo, io lo stimo, ce la sta mettendo tutta. Impegno al massimo. Però se non hai la stazza fisica, non vai da nessuna parte. Infatti alla fine entrano Sisse e Ceravolo e lo schema quale diventa lancio lungo per i miei due centravanti fisici. Poi Sisse, vabbè, in tecnica è scarso. Ceravolo, qualcosina ce l'ha, mi aspetto anche qualcosina in più da Ceravolo. Però non ha fatto bene neanche lui, secondo me. Cioè, non è stato incisivo, a parte un cross. Niente, Jelenic, per carità, ha avuto una buona occasione, due buone occasioni. Un tiro di poco fuori, un tiro centrale. Poi, qualche ripartenza buona a loro. Hanno il grande centravanti, Bruno Ori. È veramente forte quel giocatore. È fortissimo. Si vede che ha un gran fuoriclasse, ma comunque tutta la loro squadra è forte. Veramente tutta quanta. Per me il migliore del loro è Marconi. Perché quel salvataggio, ragazzi, è tanta roba, secondo me. È veramente un gran salvataggio. L'ha salvato la partita perché poi, sai, magari il Padova prendeva più coraggio. Loro si scoraggiavano e finiva diversamente. Vabbè, però, detto questo è andata così ormai. È inutile analizzare la partita. È l'unico appunto che farei a Oddo. Potresti anche mettere qualche centrocampista in più. Cioè, lo vedi che c'è troppo distacco tra l'attacco e la difesa? Cioè, si lancia lungo, ci sono sti tre attaccanti da soli. A me sta cosa non piace. L'ho detto anche a suo tempo quando abbiamo giocato con la Juve e a suo tempo quando abbiamo giocato con il Catanzaro. Sta cosa a me non piace. E quindi è un altro problema questo da sistemare. Comunque sia, vabbè, concludiamo qua. Facciamo alcune considerazioni. Considerazioni, io non penso che andiamo a vincere l'Alba Arbera. Io sono triste. Sento già che non ce la faremo. Poi, chiaro, non è che io andiamo là. Ci spero nel miracolo. Se no non seguo il calcio. Non lo seguirei. Però non sono tanto positivo, anzi, sono abbastanza rassegnato, se devo essere sincero. Perché io dicevo, questa partita la devi vincere in casa. Devi fare risultato. Anche il pareggio, secondo me, non è che andava tanto bene. Perché dopo loro a Palermo hanno un grande pubblico. Là c'è un ambiente che in serie ci te lo scordi. Avranno 35.000 persone a spingere la loro squadra. Quindi c'è un ambiente favorevole a loro. Più sono una bella squadra. Sono organizzati bene, tutto quanto. Io, ragazzi, per carità, scherchiamo nei miracoli e tutto quanto. Come ho detto, però io la vedo male. Forse, guarda, forse è un mio meccanismo di autodifesa. Io in questo momento sto cercando di mettermela via per non starci male troppo per la partita di Palermo. Quindi, ragazzi, ve lo dico, chiaro, guardate la partita. Sperateci, però... Non contateci troppo, eh. Ve lo dico, questa partita, secondo me, fa la differenza. Loro hanno un piede e mezzo, secondo me, in finale, in questo momento. Vabbè, detto questo, ancora complimenti a loro. Io... A me sta sul cazzo fare un altro anno in C, però, come ho detto all'inizio, siamo una squadra disgraziata. Non c'è poco da fare. Iscrivetevi al mio canale YouTube se volete. Se volete mettete mi piace. Sempre forza bianco scudati. Ciao.